bella a tutti forniters e benvenuti ben trovati su youtube vediamo insieme il negozio di oggi 28 febbraio 2024 iniziamo con lady gaga però mi raccomando ragazzi prima iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace e via andiamo avanti a vedere questo questo negozio lady gaga il bundle sempre presente oggi ci allunghiamo un po più eccolo qua il suo costume andiamo poi a vedere l'emote e non si vede quindi ci ritorniamo ora indietro la sua il basso cromatico cromatica eccola qua poi abbiamo il microfono cromatica poi abbiamo la schermata di caricamenti anzi una traccia jam stupid love e poi nair foria ai nike air foria pacchetto air foria ragazzi eccolo qua bellissimo pacchetto 1800 vbac che ci dà un costume aerei reattivo con stile lego dorso decorativo max stax costume max al massimo e dorso decorativo pure soul boom box eccoli qua tutti gli oggetti li vediamo qui questo è bellissimo ragazzi questa skin e qui un dorso decorativo a scatola doppio stile semplice o multiplo diciamo reattivo poi abbiamo un altro costume con tre stili e reattivo non reattivo oppure modalità colore e poi abbiamo il suo dorso decorativo pure soul boom box eccolo qua ragazzi mi raccomando partecipate anche alle nostre live serali iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace e cliccate la campanella per essere aggiornati quando facciamo le live potete giocare insieme a noi la sera andiamo a fare un po di ranked e un po di mappe creative ma intanto originale in evidenza costume ma che l'abbiamo visto anche ieri eccolo qua in due stili il primo l'originale e lo sciata nel reale molto bello questo costume mi piace e doppio dorso decorativo zaino buccia in due varianti forza forza ragazzi dai benissimo stiamo andando alla grande continuare a iscrivervi e a mettere un bel mi piace eccolo qua questo costume sempre centro con tre stili abbiamo visti ieri nel negozio già presente ieri tutti belli 1200 800 mi bacco per tre stili poi abbiamo il costume oro questo ragazzi molto bello che questo questo qua con tre stili re dorato senza pagliore oppure re scheletro normale completano anche il dorso decorativo con tre stili uguale re dorato con pagliore senza pagliore e re scheletro davvero bella questa skin 2000 vbac il suo costo le mot ottimo lavoro e fuga furiosa arriviamo alla serie dei pionieri ragazzi con le nuove aggiunte di oggi specialista luccicante eccola qua molti colori oggi per questo negozio oggetti di oggi 20 no 28 febbraio 2024 specialista ricognitore questa faccia nuova diciamo 800 vbac il lite il costume 800 vbac anche per lui skin semplici senza nient'altro ciuffo prendone al costume da 1500 vbac senza altri stili però comunque vero tutto anni 80 qui siamo ragazzi e il dorso decorativo compreso nella skin stereo portatile e poi abbiamo il suo piccone esercizi all'accetta davvero carino attrezzatura per il festival kit del perturbatore lo andiamo a vedere in doppio stile questo qua diciamo predefinito e lo stile leggenda eccolo qua molto bello scagli e bestiali la caitra la chitarra il basso basso manufatto antico eccolo qua tracce gem che continuano ovviamente non le andiamo a vedere perché sono ogni giorno in rotazione accendete i motori bundle di estro 1500 vbac con tutti i suoi adesivi che andiamo a vedere uno alla volta intanto ragazzi vi ricordo mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace e cliccate anche la campanella dai 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 ancora mancano pochi e mi raccomando questa sera no le sere quando facciamo le live venite con noi partecipate perché potete giocare insieme a noi a fortnite ecco qua turbo xeno splash ancora presente sarà presente ancora per molto questa questa cia questo turbo 250 vbac e la ruota lastrum x10 a 300 vbac poi abbiamo il bundle yagra 619 torna anche questo bundle con tutti i suoi adesivi con i quali possiamo andare a personalizzare la nostra auto quindi ogni gara apparire con una livrea un pochino diversa ovviamente si può cambiare anche il colore dell'auto poi andiamo poi andiamo a vedere il pacchetto incarichi scala livelli il solito pacchetto che abbiamo visto tutti i giorni 1200 vbac possiamo ottenere 28 livelli e le ricompense tutte quelle skin che vediamo lì non la skin scusate gli oggetti quindi ogni incarico un livello sono 28 poi abbiamo il dorso decorativo zaino energia la copertura gatto nauta il piccone tritaneo e cosmico lo stile asso astrale e il costume lynx pioniera che sono tutti gli oggetti che vedete lì accanto la serie icone rimangono ancora presenti laser fruit eccola qua col suo bellissimo dorso decorativo un negozio davvero colorato questo oggi eccolo qua oltre al piccone colpo di frutta grazie a tutti ragazzi per aver messo mi piace iscrivervi al nostro canale eccolo qua laser beam anche lui molto colorato con più stili con e senza cappello e il cappello ovviamente cambia qui ha un casco perché è tenuta da lavoro invece qui è relax e ha un cappello anche se non manca l'attrezzatura da lavoro un dorso decorativo questa specie di biscottino pan di zenzero lavoratore ovviamente e il piccone maglio fidato eccolo qua bellissimo doppio stile è un po più corto una mazzetta diciamo e poi un po più grande ninja 1500 vbac questo costume in cui possiamo andare a coprire il volto e trasformare il nostro personaggio diciamo intanto questo che vedete qua dietro il dorso decorativo non lo trovate nel negozio ma lo andiamo a vincere completando gli incarichi odissea noi li abbiamo completati tutti abbiamo completato il mosaico ve lo facciamo vedere anche alla fine del video eccolo qua il suo dorso decorativo queste egemonia ninja queste due lame che possiamo andare a prendere come piccone 800 vbac vado da fare un piccolo set poi abbiamo il pacchetto flake power carinissimo questo personaggio che si trasforma con la sua emote da uno stile passa all'altro poi possiamo prenderlo con gli occhiali neri o bianchi eccola qua la skin che lo trasforma l'emote che lo trasforma questo possiamo usarlo in gioco il suo dorso decorativo elettro stampa nelle versioni tutte e due le versioni abbinabili allo stile e poi abbiamo anche il piccone falci elettriche eccole qua e il falci elettriche potenza fantasma da abbinare anche queste come vogliamo ai vari set poi ci sono i vari pass e creole 25 livelli per 1850 vbac 1800 per entrare nel pass festival e prendere tutte le ricompense premium che vediamo qui nel dettaglio chitarra cromatica traccia gem right with me schermata di caricamento collezione gaga traccia gem black hole sun aura aurora traccia gem breaking me la chitarra chitarra cromatica la traccia gem poker face dorso decorativo sinusoide elettrica l'emote kidnest punk e il costume in gaga enigmatica la crea di fortnite è disponibile ancora oggi e domani poi arriva la nuova crew pacchetto elite dorado non sappiamo se continuerà è stato presente per moltissimo per tutta la stagione quasi tutta la stagione dove andiamo a prendere tutti questi oggetti che vediamo sopra tre skin e il pacchetto diciamo entry level 4 49 con 600 vbac compresi gli oggetti che vediamo di quindi negozio oggetti è terminato le novità di oggi rispetto a ieri sono solo queste della serie pionieri per oggi mi raccomando però intanto ragazzi iscrivetevi al canale dai dai che manca in pochi per arrivare a 3000 e mettete un bel mi piace a questo video dai facciamolo salire ragazzi fatemi un piccolo regalo e cliccate la campanella per perdere i nostri aggiornamenti quando facciamo le live serali su fortnite potete giocare con noi ma adesso andiamo a vedere un attimo gli incarichi eccoli qua gli incarichi odissea tutti terminati quelli presenti ieri e avevamo completato diciamo il mosaico con tutte le missioni che potevamo fare ieri ora mancheranno quelle di oggi per raccogliere tessere mosaico in guarda leggi avversari apri contenitore colpisci punti tempo li trova e raccoglie scorte mosaico ed emblemi del mosaico nella serie di incarichi istantanea mosaico per completare e rivelare l'immagine intera quindi ci saranno questi qua che verranno a completare per i prossimi giorni in 7 ore e 28 minuti si aggiorna il le nuove missioni di cui andremo a fare i video trovate tutti i video all'interno del nostro canale detto questo ragazzi mi raccomando ci salutiamo però non salutateci senza esservi iscritti al nostro canale senza permesso un bel mi piace senza aver cliccato la campanellina mi raccomando contiamo su di voi grazie a tutti ci vediamo presto ciao